Benvenuti amici della notte nella diecima puntata di Punto Net Night Live. Abbiamo girato per voi nel centro di San Salvo che festeggia oggi la festa di San Vitale, il patrono della città. Abbiamo raccolto per voi alcune immagini, alcune impressioni di questa grande follia. Buon divertimento e auguri San Salvo. 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 Ci siamo fermati da Nicolino ai bar sotto i portici. Nicolino Cilli, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Come stai oggi? Ebbene, buon d'affarato però va bene, va bene. San Vitale, questa sera noi ci siamo adesso qui nell'orario dell'aperitivo, più tardi che cosa possiamo aspettare da te? Allora, dalle 22 avremo un concertino dal vivo con la piccola orchestra underground che saranno fino alle 2 massimo e faremo dei cocktail tutta la serata. In più domani sera che sarà giovedì 28 avremo un altro gruppo sempre dalle 10 in poi, faremo prima l'aperitivo sempre e poi ci saranno i maronglassi che ci faranno... fanno fare... Fanno fare follare la gente diciamo. Un po' di trenini? Dai dai, si 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 si, ci restiremo. Va bene. Buona serata ancora, noi torniamo dopo, appena suona la piccola orchestra underground. Amici, continuiamo il nostro giro. musica 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 ora andiamo a visitare a vasto il bar mi va se vi va seguitemi musica 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 Vorrei mandarvi a Nanna questa sera con il sorriso sulle labbra. Vi voglio far vedere le risate dietro le quinte e la biondissima Papperissima si scusa per tutti gli errori che ha fatto, che fa e che farà. Noi ci vediamo giovedì prossimo per la nuova puntata di Punto Net Night Live. Ora vi auguro una buona notte. Gute Nacht Freunde. Tschüss. Un mese fa, ok, tè, che è stata, che è stata, andiamo, no. Donne un sorriso Lorenzo. Aspetta. Dall'Associazione Slow Food Punto.